Che tempo che fa, chi sono gli ospiti domenica 12 marzo 2023, le anticipazioni di stasera? Come ogni domenica che si rispetti l'appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20. È solo uno. Ed è quello con il talk show, tra approfondimenti, attualità e interviste. Che vede alla conduzione da anni Fabio Fazio. Con lui, a che tempo che fa, le presenze fisse di Luciana Littizzetto. Filippa Lagerbac, Gigi Marzullo, Nimo Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, domenica 12 marzo. Tra gli ospiti di stasera nel programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'Officina. Ci sarà Giorgio Panariello, in turno e con la Favola Mia, spettacolo in cui ripercorre in una veste inedita e attuale i 20 anni Cro hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. E ancora, tra gli ospiti anche Samantha Cristoforetti, prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale e rientrata a ottobre dalla missione spaziale Minerva, dopo quasi sei mesi. E ancora, tra gli ospiti. A chiudere la serata, come sempre, che tempo che fa il tavolo con Nino Frassica. Gigi Marzullo, Simona Ventura e la signora Coriandoli. Ospiti, Levante che si esibirà con vivo. Brano presentato a Sanremo, Marina Massironi e Cristiano Caccamo, tra i protagonisti della terza edizione di LOL su Amazon Prime Video. Amadeo Bagnis che ha vinto la medaglia d'argento nello scheleton ai mondiali di Santo. Moritz, la Jalapas Band, Teo Teoculi e Francesco Paolantoni. Crezi ține pentru tine, fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo, grasul nimeni altu, delvede sau carbo. Tre' să vă mănânc vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât.